Ti ricordo di lasciare un mi piace per sostenere questo canale, ti ringrazio mille se lo farai, iscriviti e attiva la campanella se ancora non l'hai fatto, buona visione, buon relax, c'è, 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 In questo mio nuovo video, ho bentornato in questo mio nuovo video ASMR. Oggi siamo sul format, come avrei letto dal titolo, spogliamo insieme il catalogo del Lidl. Sotto prezzi, danno i prezzi, sono sempre i passi, dal lunedì 22.07 a domenica 28.07. Allora, in copertina abbiamo anche questa informazione delle sue specialità Irlanda e Gran Bretagna da giovedì 25.07. qui ci sono delle offerte, Granarolo a cattità di lattosio a 0,99, i fusili del cieco a 1,29 euro, la birra Peroni a 0,65. Diamo una breve occhiata, buttiamo l'occhio sulle cose che ci fanno più voglia, che ci viene in mente che potremmo comprare. tra tutte queste cose, nulla per me. Qui la cosa si fa già più interessante è questo qui, non l'ho mai visto, all'idea del mio paese. a 0,49, sembra un pane, ma più una brioche salata, dico io e non so, non c'è scritto. ripiena di tacchino, stracchino e rucola, tacchino, stracchino, tacchino, 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 bello, mi piace. E mi fa anche voglia, 0,49 se lo troppo, me lo prendo. Anche questi ultra dolci shampoo mi sembrano un buon prezzo, 1,79 euro. A me piace quello alla camomilla. E se ci fosse anche quello al cocco, ma non c'è, non c'è forse nell'offerta. Anche questi Beyoncé, sapone liquido a 0,99 euro, sono buoni, quei saponi, non so, quelle profumazioni lì, però sono buoni. Anche li usavo sempre da bambina, anche i padri da in estate avevano delle profumazioni buone. Adesso non se ne vedono più. Poi, 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 altre cose qua, pannolini, no? Questo di Xan è per la lavatrice, spero, non per la lavastoviglia, perché detersivo in caps, lo spiega. No, credo sia per la lavatrice. Allora, prenderò, non lo stai vedendo, intendevo questo. 5,49, 2 caps. Dovrei provare a prenderlo. Perché abbiamo preso queste caps, ma di un'altra marca, non ricordo quale. E ci siamo trovati molto bene, ne mettiamo una in lavatrice, abbiamo fatto un sacco di lavaggi. Ed è molto più pratico che prendere il mega bottiglione di detersivo, che poi non si sa bene mai quanto metterne. Invece qui, ne metti dentro la lavatrice una capsula e via. Ma anche più ecologico, alla fine, c'è solo questa scatolina e... Vabbè. Qualcuno, che sai, non d'altro. Poi c'è il super mercoledì, che la scorsa settimana invece era super sabato, con tutte le offerte. Offerte valide, solo mercoledì 24 luglio. Ecco, anche quello, non lo so, perché c'era un super sabato, offerte valide solo sabato, poi la domenica abbiamo trovato lo stesso. Ok. Che era rimasta la roba? Sconto alla casa. Ma non mi dà voglia, non mi dà di queste cose. Per esempio, questi cornetti qui algida. Io non voglio togliere niente all'algida, però i cornetti alla panna del Lidl sono molto più buoni. Hanno sempre la confezione azzurra. C'è scritto con panna o la panna, o qualcosa del genere. La cialda è molto più buona, e anche la panna, non lo so, vabbè. Ecco, questo nomino. Eh, lo so, mi dispiace. Non volevo fare cattiva pubblicità all'algida, ma questo è quelquanto. Cioè, è una cosa che abbiamo riscontrato, ecco. E poi vediamo un po' come cosa c'è, che ci fa voglia, creatura. Nulla. Poi c'è della frutta e verdura in offerta. Della carne. Ah, bene, qui si fa sul serio qua, eh. Allora c'è Irlanda e Gran Bretagna da giovedì 25.07. Formaggio cheddar a 2,99 euro. Blue still don't cheese top a 2,49 euro. Formaggio cheddar a 1,79 euro. Sarà la confezione più piccola. Sì. Poi, fish and chips a 3,99 euro. Patatine fritte a 1,79 euro. Patatine in sacchetto chips a 1,19 euro. Patatine rigate, sempre chips, 1,11 euro. Poi, snack salati a 0,79 euro. Poi, snack salati a 0,79 euro. Di mais e patate al gusto di aceto. Wow. Poi qui abbiamo delle birre. A 1,99 euro. È rossa e questo sarà bionda, immagino. Quando non specificano, di solito, è bionda. Poi c'è il sciroppo di ribes nero a 1,79 euro. Se è senza zucchero. È molto aspro, ma penso di no. Perché il sciroppo di soia e sciroppi hanno un goto di zucchero. Poi c'è scritto shortbread fingers. Biscotti scozzesi al burro. Scozzesi, 1,19 euro. Biscotti con frumento integrale. Questo mi fa voglia. 0,79 euro. 12 città al caramello e cioccolato su base di cioccolato. Li voglio. 1,49 euro. Confettura extra di ribes neri. 1,19 euro. Indovina? Mi fa voglia anche quella. Ma mi fa voglia tutto. Biscotti scozzesi al burro. Versione con gocce di cioccolato. Classica. 1,29 euro. Beh, noi prenderemmo quelli con le gocce di cioccolato. Vero credo. Ovvio. Gelato la menta. Wow. 1,99 euro. Poi la marmellata. Marmellate, anzi, ha 1,19 euro. Diversi gusti. A scelta tra marmellata di limoni con scorstette di limoni o marmellata di arance e limoni con zenzero. Mi sono avvicinata perché da qui non vedo, sono molto distante. Poi i cheesecakes, dessert con base di biscotto a 1,69 euro. E fanno voglia. Ovviamente. Poi, non so come si legga una cosa che è, vediamo, salsa alla cipolla caramellata. Wow. Salsa prugna e miele o salsa pomodoro e peperoncino. 1,49 euro. Io mi prenderei quella da cipolla caramellata. Mi fa voglia. Voglissima. Specialità British style. Mi viene in mente Ciccio Gamer quando dice, ah, quanto so british o questo del genere. Mi fa ridere. 0,49 mi fa voglia quello perché è verde, c'è la menta e cioccolato. Menta e cioccolato mi dà una sensazione di freschezza adesso che c'è estate, c'è, ah, fai caldo. Oh, sono già finite le specialità british. Quindi, vediamo un po', dal nostro assordimento risveglia il bartender che è in te. Cos'è bartender? Bender che ti offender? Cheat. Da Futuramo. Sono, 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 e lascia di ispirare dei profumi mediterranei del nostro nuovo cine italiano. Tempesta di lettura. Wow. Qui abbiamo Bontà e amore per la terra. Firmato dagli agricoltori italiani. Biscotti classici, frullini con granelli di zucchero, frullini risolatte, 1,29 euro. Sono dei nuovi packaging, se non sbaglio. Tortiglioni, spaghetti. Ma sono dei gombini, non mi piace tanto la pasta con bini, si spezza in cottura. Preferisco la italiamo, delle marchi del Lidl. Poi c'è il couscous, pesta margherita. Italiamo però la confezione bianca, invece di blu. Risso del Delta del Po, buono, 1,89 euro. Polpa di pomodoro a cubetti, passata di pomodoro su quel pomodoro basilico. Qui c'è la farina che ho chiesto su Instagram, la differenza. Perché c'è scritto farina di grano tenero tipo 00. e c'è scritto che sta a 0,59 con grano 100% italiano, lievitazione da 3 a 8 ore, un chilo alla confezione. Qui c'è scritto sempre farina di grano tenero tipo 00 con grano 100% italiano. E dicevo, ma dove è la differenza? Lievitazione da 12 a 48 ore, a 69. E qui dice, indicata per crostate, biscotti e grissini. Indicata per pane, torte e pizza. Non riuscivo a capire la differenza. Allora, ho chiesto aiuto su Instagram. Sono molto, 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 molto attivi. E ho chiesto aiuto a voi. e a qualcuno mi ha detto che c'è il lievito dentro, ma non è così. Allora, ho chiesto a un palettiere molto bravo che mi segue e mi ha spiegato questo. Vi leggo il messaggio. Non c'è il lievito. La differenza è la forza della farina. Forza scritto, tra virgolette, che di solito è espressa con la scritta 180V, con la V grande, la doppia grande. farina debole, 240V, farina media, o 360V, farina forte, eccetera. In base a quello che devi fare, c'è una farina specifica, ad esempio quella da 0,69V, che è questa, che non stai vedendo, e questa, avrà 360V, come forza, e formerà una maglia glutinica, più resistente per affrontare 12,48 ore di lievitazione rispetto a quella da 59 centesimi. Grazie mille per averci insegnato questa cosa, perché io non sapevo, non capivo la differenza di prezzo, neanche perché che con sempre scritto farina di granute, tipo 00, avessero prezzi diversi, e anche qui scritto cose diverse da fare. Adesso lo so, sono grazie, sono molto contenta con voi, imparo sempre ogni giorno cose muove, utili. Allora, qua c'è, penso ci do solo con il fai da te, little, to eat yourself, man, or woman, ma, man, ma tipo bro, e ci sono tutti attrezzi, ci sono anche delle t-shirt da uomo, ma no, sono da uomo, sono t-shirt, punto, little, siamo in 2019, ancora a costo di cose da uomo e da donna, facciamo vedere così, unisex, allora, queste cose che mio padre utilizza sempre, tutti i giorni, perché fa l'impianchino, fa il pittore, anzi, fa il pittore, da piccola diceva che faceva il pittore, l'impianchino, wow, set badminton, il mio sport preferito, non sto scherzando, è il volano, 9,99, se avessi qualcuno con cui giocare, me lo comprerei, ma non ho amici, no scherz, amici piccini con cui giocare, non credo che Marco De Rosa ci giocherebbe comunque, non lo so, secondo me, Mr. Cream, si farebbe una parità a volano con me, allora, anche la Marta, speciale bagno, tutto quello che serve per organizzare in un attimo, il tuo angolo di benessere, wow, che belli questi asciucamani, verdi e, no, sono neri, sono neri, verdi e neri, i miei, asciugacappelli, ioni, 12,99 euro, rossoio, non ci interessa, taglia capelli, ce l'ho già, regolatore per no, sicuramente, grazie, non ne ho bisogno, con gli elementi di arredo, progettare i tuoi spazi diventa facile, boom boom, poi, portocetti telescopico per bagno, quella mi piace, anche quella con i cassetti, no, cisti, cisti, portocetti, quattro pezzi, portocetti, pensile, o cista con coperchio, anche la cista con coperchio è bella, però non ho spazio per dove metterla, quindi nulla, anche un bel colore, perlomeno dal Teplian, un bel colore, stirato e ordinato in un lampo, c'è questo sistema di stiratura, verticale a vapore, ma cosa, siamo proprio nel futuro, copriassi da stiro, cesto porta biancheria, pieglie, pieglie, volevo uscire a dirlo, ciò batte comfort da donna, vabbè, questo da donna, guarda lì, mi fai proprio, mi cazzare, poi, pollici verdi, sto scherzando ovviamente, spero di, puoi farti rilassare, tenerti compagnia con i miei commenti, piante verdi, lavando, che buono, che scritto lavandola, ma è la vanta, e io adoro, attiro un sacco di api, però la durmo, anche questi cactus, mi piacciono, però non quelli con le spine, mi piacciono questi qui, aspetta, vi faccio vedere questi qui, li vedi, ah è finito, che peccato, ah ecco, super weekend, offerte valide, da sabato 27, a domenica 28 luglio, prosciutto cotto, di alta qualità, a 0,99, e metal, 1,49 euro, carciofi interi, sott'olio, schifo, 1,19 euro, non mi piacciono i carciofi, si era capito, acquavita snella, 1,68 euro, ma noi, beviamo la, Eva, 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 oddio, sembra pubblicità, non volevo fare pubblicità, ma mi piace tanto, l'acqua panna, l'acqua eva, le mie preferite, però lì del non c'è la panna, poi ci sono le pringles, in offerta, che io non posso comprare, perché, non riesco a controllarmi, ne mangio, 2, 3, e poi, penso sempre a loro, fino a che non le mangio tutte, e poi vomito, quindi, non le compro, perché, secondo me, ci mettono qualcosa, tipo, non lo so, l'LST, qualcosa che crea dipendenza, non lo so, no, non sto dicendo, no, sto scherzando, però per dire, sono talmente, piene di sale e zucchero, che danno, creano dipendenza, e ci penso sempre, vorrei mangiarle tutte, e non riesco a controllarmi, tipo, le croccantelle al bacon, che non compro più, proprio per quel motivo, perché mi mangiavo un sacchetto, in un giorno, e c'è il glutamato, dentro, per quello, sono così buone, però fanno male, cioè, non bisogna mangiarne troppo, e quindi, non le compro più, quelle cose, perché non riesco a controllarmi, un euro e 49, e le mie preferite, sono quella, paprika, delle brinkles, riesco anche a stare, dei mesi, insomma, mangiare zucchero, proprio così, ma, quando mi trovo davanti, quelle cose lì, non riesco a, controllarmi, e a te, creatura, succede con quale cibo, fammelo sapere, il trucchetto, è non comprarli, se non è in casa, non li mangi, comunque, grazie per aver visto, questo video, spero che ti abbia fatto, rilassare, tenuto compagnia, e spero anche, di esserti stata utile, dato che, insomma, si vedono un po' di offerte, e il catalogo, non arriva a tutti a caso, per esempio, a me non arriva, e lo prendo direttamente, in negozio, non sempre, a volte si arriva, altre volte, per la maggior parte, lo prendo in negozio, così ce l'ho anche, prima di quella data lì, infatti, ce l'ho prima, di lunedì 22, però tu lo vedrai, giovedì, oggi giovedì, e, comunque, tante, tante creature, mi spiegano, grazie, perché così, vedo le offerte, mi fai, mi fai cadere l'occhio, cioè, ti accorgi tu, per noi, delle cose più, invoglianti, e poi me le fado a prendere, quindi, sono contenta, no, non faccio, non lavoro, ripeto, che il Lidl, non mi paga, per farlo, non lavoro per il Lidl, mi piace soltanto, mi rilascia, da quando ero bambina, guardare, il catalogo, del Lidl, fare i miei commenti, anche mia mamma, si diverte, quando dico guardiamo, si divertiva, scusate, si divertiva, quando, spogliavo il catalogo, del Lidl, facevo i miei commenti, e quindi, mi piace condividerlo, ancora con qualcuno, e cioè, con te, creatura, ti voglio tanto bene, buonanotte, 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 creatura, ciao, creatura, grazie a tutti,